Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto a Monsignor Ambrogio Spraffico, con i fedeli della diocese di Frossinone, Veroli, Ferentino, che celebrano il 1500 anniversario della morte del Santo Pontificio Osmista, patrono della città di Frossinone. È stato questo il saluto del Santo Padre e pellegrini di Frossinone, che in mattinata, accompagnati da Monsignor Ambrogio Spraffico, hanno partecipato all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. L'iniziativa si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti religiosi e culturali, promossi in occasione dei 1500 anni dalla morte di Santormesda, pontefice dal 20 luglio 514 al 6 agosto 523. La delegazione Frossinate ha visto la partecipazione di circa 200 fedeli provenienti dalle varie parrocchie della città, accompagnati da diversi sacerdoti. La cerimonia si è poi conclusa con il saluto che il Vescovo Spraffico ha rivolto a Papa Francesco nel momento dell'incontro, al termine dell'udienza. Il culmine dei festeggiamenti si avrà nel giorno della festa che cade il 20 giugno, con la celebrazione in cattedrale, presieduta dal Vescovo alle 18.